Buonasera ragazzi, e adesso partiamo con le zero per genere della nostra Juventus. Vamos, vamos cazzo, vamos. Cesni, 6, buona partita da parte di Cesni e buone uscite per lui. Danilo, 6, buona partita da parte di Danilo, molto bene in fase difensiva. Derrick, 7, bellissima partita da parte di Derrick, non è passato nessuno dalla parte sua. Chiellini, 7, bellissima partita anche da parte di Chiellini, neanche dalla parte sua non è passato nessuno. Alexandro, 6, buona partita da parte di Alexandro, molto bene in fase difensiva e si è fatto fare fallo a volte anche per far salire la squadra. Mecchini, 4,5, partita orribile da parte di Mecchini, orribile. Locatelli, 7,5, bellissima partita da parte di Locatelli, molto bene in fase di postazione, molto bene a centrocampo e anche in gol. Erdebbi, l'hai deciso tu, Locca. Rabiot, 5,5, partita molto imprecisa da parte sua questa sera. Chiesa, 6,5, molto propositivo in avanti Chiesa, è molto bene questa sera. Ken, 4,5, partita orribile da parte di Ken, veramente una partita orribile. Bernardeschi, 6, buona partita da parte di Bernardeschi questa sera. Cambi, quadrato, 6,5. Ha dato veramente una grande impronta quadrata alla partita da quando è entrata nel secondo tempo e la Juve si è svegliata alla grande. Kuluzerski, 6, buon ingresso da parte sua e purtroppo ha preso anche il paro. Caglio Giorgio, senza voto. Bene ragazzi, con questo è tutto, vi faccio una buona serata. Iscrivetevi al canale YouTube e seguitevi anche su Instagram su ZebraBianconera95 e seguitevi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera. Nella gioia del dolore, fino alla fine, forza Juventus sempre. Buona serata a tutti ragazzi, ciao.